Tu, 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 gracias! E adesso è il momento della nostra famosissima televendita. Eh sì, noi siamo orgogliosi di aver lanciato sul mercato questo oggetto che qui a Napoli veramente sta andando a ruba. Vedete, noi qua siamo tutti quanti belli rilassati, tranquilli, sereni, perché tutti i giorni utilizziamo questo oggetto firmato Made in Sud. Quindi mi raccomando, diffidate dalle imitazioni, perché solamente qui a Made in Sud troverete questo oggetto brevettato da loro. Enzo Esal! Buonasera amici, questa sera vi propongo un oggetto che cambierà la vostra vita. Infatti questa non è la solita televendita. Questa sera non vi propongo alcuna batteria di pentole, né tantomeno la mountain bike col cambio Shimano. Stasera vi propongo lui, l'incazzatore personalizzato. Pensate che con un semplice schiocco delle dita si arrabbia al posto vostro. Ma vi voglio fare subito un esempio pratico per farvi capire come funziona. Non so, state in auto, andate a fare il rifornimento e vi accorgete che c'è stato un altro aumento sulla benzina? Eh Bass, l'altro aumento non è possibile! Ma perché? Poi mi dovete spiegare una cosa. Lo sconto di due centesimi e l'aumento di dieci. L'Adrians Mary Wall! Ui sit Mary Wall! Io ormai con 5 euro di benzina non riesco a mangiare un benzinaianato! Avete visto amici? È straordinario! Pensate che da questa sera potrà essere vostro. Basterà chiamare al numero che vedete in sovraimpressione. Ma perché le cose che ci fanno arrabbiare sono veramente tante. Poi è piccolo, maneggevole, lo potete portare ovunque anche al cinema. Vedete, è un film che non vi aggrada. Alla fine vorreste anche i soldi, volesse il rimborso delle spese. A me è capitato con l'ultimo film di Sylvester Stallone, che ha avuto anche il coraggio di dire che era un film nuovo. Rambo Quattro e firma lui! Ma tu sei scema allora! Tu devi morire! Tu prima o poi esci a casa! Non è possibile che ti salvi sempre! Ti devi muazzare tanto! E poi si vieta, si fatti vieta! E già doveva grinta la foresta con il cortilello mochi di carattentino! Rinta l'attrezzatura vicino e bomba a mano, ti hanno messo pure un catetro! E poi rambo uno, due, tre, quattro, non mettere la coppa a roccia! Si sembra di un ugingo in competizione! Cosa vi dicevo amici? È straordinario! Ma vi può essere utile sempre! Pensate che lo potete acquistare alla modica cifra di 300 euro e adesso vi dico che cosa sono 300 euro in cambio della vostra pace interiore! Ma vi può essere utile sempre anche perché le cose che ci fanno arrabbiare sono all'ordine del giorno! Aprite il giornale e venite a conoscenza che Bossi ha dichiarato che il governo, sposando la Lega, ha sposato anche i suoi ideali! E se non farà quel che dice, prenderà i fucili! E piglilo sui fucili! Ma una volta è sempre sparato molto! Con queste vostre ci sono scimità! E poi qua ve lo dico! Questi sono i loro patrimoni! Questi qua, se divorzano, chiaramente li paghiamo noi! Non lo posso far taggiare a scuola! E poi piglilo sui fucili! Appena arriva a napoli! Ecco in questo caso, basta abbassare la voce e aspettare che si calmi! E se proprio non si calma, lo spegnete! Comprate questa sera il vostro fegato di ricambio, così il fegato se lo fa lui!